Ciao a tutti ragazzi volevo farvi vedere i miei disegni che ho fatto ho fatto questo qua che l'ho fatto il 20 di luglio spero che vi piaccia ho fatto un altro sempre sulla tela questo è quello più grande questo l'ho fatto il 15 di luglio del 2021 questo l'ho fatto il 14 07 del 2021 cioè il 14 luglio del 2021 solo la parte sopra della scatola il coperchio nero lasciato così era tutta nera e c'ho fatto solo il coperchio colorato e l'originale sotto era nero così come la parte sotto qui al guardancino vedi qua sotto è nero era nero come la parte sopra ma sopra era il coperchio ho fatto il disegno per aprirla un pochino di più qui l'ho lasciato la marca mi twin e cioè sotto twin set sotto scritto dopo aver fatto questo il 15 07 2021 cioè 15 luglio del 2021 questo qua se vi piace lasciate un like scrivetevi al mio canale youtube che mi chiama dark 2.0 lark seguitemi lasciatemi un like e consigliatemi cosa fare nel prossimo video se vi piace questo video lasciate un like se non vi piace pollice in su spero che vi piaccia così almeno lasciate il pollice in su e più consiglio di mandarmi dei consigli cosa fare nel prossimo video commenti giusti non sbagliati e fatemi sapere cosa posso fare nel prossimo video con dei commenti giusti non sbagliati non offensivi così ci portiamo rispetto con l'altro ok ragazzi ciao